Per il terzo anno consecutivo la città di Agropoli vivrà la magia del Natale, attraverso la vera dimora di Babbo Natale, il Castello Incantato 2020. Negli anni questa iniziativa è cresciuta ed ha ottenuto un successo di pubblico e visitatori. La manifestazione ideale per far immergere i visitatori in un'atmosfera unica e ripetibile è diventata un'attrazione turistica di grande richiamo per la città di Agropoli. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, le misure imposte dal governo per il contenimento della diffusione del virus sarà strutturata diversamente. L'amministrazione comunale agropolese non intende rinunciare a far vivere la magia del Natale a grandi e piccini e nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid ha deciso di patrocinare l'iniziativa. Il Castello Angioino Aragonese anche quest'anno sarà a disposizione dell'Associazione Ercula per la realizzazione della vera dimora di Babbo Natale, il Castello Incantato 2020. La proposta progettuale al quale il Comune ha dato seguito prevede esclusivamente l'allestimento della Sala dei Francesi, all'interno del Castello Angioino Aragonese, all'interno della quale verrà riprodotta la stanza personale di Babbo Natale con trono, giocattoli, elfi, alberi e tutto ciò che rappresenta la magia del Natale. Inoltre per l'occasione è stato creato apposito sito web dove sarà possibile avere informazioni e gestire le prenotazioni in totale sicurezza, così come imposti dai protocolli covid. Altra novità di quest'anno è la sospensione del ticket d'ingresso al castello e del parcheggio per il periodo natalizio, oltre all'aiuto e al sostegno dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile della città di Agropoli, che garantiranno il rispetto delle norme anti-covid. Momentaneamente e fino a diverse disposizioni del Governo e della Regione Campania, la stanza di Babbo Natale è raggiungibile via web al sito www.laveracasadibabbonatale.it. Collegandosi al sito internet si può interagire con Babbo Natale attraverso un video selfie whatsapp oppure fargli una videochiamata.